Continua il cartellone estivo del comune di Pescara, si parla di cultura, di arte e di spettacolo, in questo caso l'appuntamento qual è? Il fiume e la memoria. Noi abbiamo ritiene importante innovare l'offerta culturale a Pescara con tante iniziative nuove che soddisfano le esigenze di questa città ma anche riallacciare storie importanti come quella forse della più bella iniziativa che nel corso degli anni ha illuminato la zona del centro storico che tanto amiamo cioè il fiume e la memoria. Per alcuni anni sono in stand by questa importante manifestazione ma ha richiesta grande anche degli operatori del luogo, della città di Pescara quest'anno come l'anno scorso l'abbiamo riaccesa e dal lunedì prossimo tornerà a essere un punto di incontro importante in una zona che noi amiamo che vogliamo poi riqualificare dal punto di vista della vivibilità culturale, della partecipazione culturale e sicuramente il fiume e la memoria è protagonista da sempre di quella zona e di questa cultura. Andiamo a riscoprire e valorizzare sia ciò che abbiamo un po' nel tempo, innanzitutto pescarese e abruzzese, un po' smarrito magari quindi a rivalutare personaggi e personalità da valorizzare o che poco si conoscono, quest'anno è il centenario per dire di Paolo Tosti celeberrimo grande musicista abruzzese e chiuderemo con un grande omaggio alla sua musica e alla sua arte e riscoprire anche però spazi della memoria non solo temporali ma anche dello spazio fare memoria di circostanze, situazioni, contingenze che meritano di essere valorizzate e ricordate. Fra queste abbiamo una sezione che abbiamo chiamato memoria speciale nella quale ospiteremo delle realtà, delle associazioni no profit che presenteranno le cause per le quali si impegnano e si battono e così avranno un pubblico a disposizione per far conoscere situazioni di fronte alle quali c'è bisogno di far memoria.